Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e rallentamenti tra Baldarno e Firenze Sud. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione Mare restringimento di carreggiata. La viabilità cittadina a Firenze via delle 5 vie chiusa a causa di una fuga di gas con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!